Gli astronomi hanno identificato una galassia nel cui cuore è presente una grande quantità di materia oscura. Questa strana galassia ha evitato di fondersi con altre galassie per miliardi di anni, rimanendo isolata. La materia oscura rappresenta circa l'85% della materia nell'universo, non emette né riflette luce, quindi gli scienziati sono in grado di rilevarla solo indirettamente. Chandra ha osservato il cuore di Markarian 12-16 nei raggi X, a diverse distanze dal centro, permettendo agli astronomi di pesare la materia oscura nel mezzo della galassia. Gli scienziati riescono a tracciare l'evoluzione delle galassie risalendo fino a miliardi di anni. Ulteriori studi su questa galassia potranno fornire agli astronomi l'opportunità di verificare diverse ipotesi sulla natura della materia oscura. Grazie a tutti.